C'è stato quei disastri che io guardo, sono stato internato, detenuto politico a 18 anni, ma non ho mai visto una cosa del genere, di agente. Cosa direbbe a questi giovani in base alla sua esperienza? Cosa vuol che le dica? Guardi, è una cosa che io non saprei cosa dire, non glielo so dire. Secondo me queste manifestazioni sono soltanto un pretesto per andare in piazza a Fargasino. Cioè, sicuramente c'erano anche i miei coetane di Genova, io non lo so per vivere a casa, malato purtroppo. Sarete sceso in piazza? No, manifestazioni oggi. Io ero in montagna, ho visto la televisione, perché questa via qua, piena di confusione, ero preoccupato, quello sì. Ho coperto tutto, ho messo i cartoni, ho fatto barriera proprio, e me ne sono fuggito. E tu rinizio la vita normale? Ma io me lo auguro. È quello che ci aspettiamo un po' tutti, non lo so. Con i disastri che alcuni miei colleghi qui intorno hanno avuto, sarà dura. Però noi qualche disagio lo abbiamo, l'abbiamo avuto, però piano piano riprendiamo e sicuramente andiamo avanti. Grazie. Grazie.